ecco lo stivello magno ragazzi oggi parto il video un po arrabbiato perché veramente non se ne può più di questa juve di queste prese in giro della dirigenza che continuano a dire che siamo una squadra competitiva e poi ci facciamo schiacciare dall'impolo in casa quindi oggi voglio partire con i saluti e ringraziamenti come faccio sempre a tutti gli iscritti ragazzi grazie veramente di cuore di esserci sempre e un altro grande abbraccio a tutti quegli iscritti che mi supportano da tanto tempo e tra questi a Gattino e Ale un bacione ragazzi però guarda mi dispiace che siate i primi protagonisti di questo video perché è un video veramente di sfogo vuole essere un video di alto là di ultimatum alla dirigenza perché dopo questa sconfitta qui non ci sono più alibi si era detto adesso giocheremo bene senza Ronaldo il progetto potrà andare avanti perché giocheremo di gruppo ci ricompatteremo ognuno si sentirà più responsabilizzato togliamo tutti gli alibi degli errori precedenti di paratici delle partite malfatte con Pirlo con Sarri adesso siamo una nuova Juve con l'Empoli vinciamo perché andremo in campo aggressivi tenaci vogliosi di dimostrare che possiamo battere 2-3-0 che siamo alla Juve ieri non si è visto niente di questo tra l'altro eravamo anche illusi dall'inizio scoppiettante dovuto soltanto a Chiesa che da solo ha fatto una serpentina saltando 4 giocatori e tirando in porta con un vicario che ha fatto un miracolo così come anche nel secondo tiro con un vicario sul suo palo ma comunque una grande parata di reazione quindi ecco questo è un po' il quadro di come poi è andata la partita cioè l'Empoli ha preso le misure alla Juve in un batter d'occhio ha capito che stava rischiando di prendere il gol si è cementata in difesa con un Andrazzoli veramente stratega che è stato mai migliore di Allegri mettere giù la squadra squadra ordinata, compatta, vogliosa, aggressiva che correva su tutti i parti del campo ricontro, protopertiva in contropiede di continuo ha rischiato di farsi anche 2-3-0 l'Empoli ricordiamocelo, col gol sfiorato da Cutrone e poi alla fine con il sabotaggio di Bonucci che si è salvato veramente in fondo schiena quindi è stata una Juve veramente indecifrabile una Juve che penso che se andasse avanti così il campionato potrebbe ritenersi fortunata di arrivare tra le prime 8 e la cosa bella è che la dirigenza continua imperterrita a vendere fumo negli occhi ai tifosi continua tramite Allegri, tramite dirigenti, tramite Nedved e Agnelli a predicare che la Juve è forte, che la Juve è competitiva la Rosa assolutamente a livello dell'Inter delle altre compagini appunto che si stanno giocando con noi l'Europa il girone è abbordabile, siamo contenti chiaramente sarà da faticare in Russia tutte queste cavolate per poi non prendere niente, nessuno nel mercato questo è l'obiettivo, non spendere cioè tenere le bracina corte, pensando tanto noi abbiamo lo stemma Juve, no? siamo all'Allian Stadium, facciamo paura invece non ha paura nessuno cioè neanche l'Empoli che viene in trasferta noi abbiamo 20.000 persone all'Allian Stadium di cui forse 18.000 erano nostri l'Empoli c'era qualche vecchietto col foulard e le bandiere ci ha messo paura anche quello probabilmente perché stiamo talmente alla frutta che anche forse uno spiffero un urletto di un tifoso dell'Empoli ormai ci sballotta guardando le facce che avevamo in campo ieri sera e i giocatori fuori ruolo scandalosi messi da Allegri ti fa capire veramente che siamo in un quadro sconcertante, un incubo che continua ad andare avanti non riusciamo a svegliarci da questo incubo e se prima poteva essere un sogno vincere la Champions ora proprio non esiste neanche il sogno non c'è neanche quello cioè forse non riusciamo neanche a passare il girone e niente ragazzi adesso c'è la pausa nazionale c'è Milano e Napoli che probabilmente ci rifileranno tre papere perché vedere una Juve del genere al meglio tra l'altro con i migliori giocatori che potevano schierare e perdere così fa capire che non c'è molto da essere contenti torno all'analisi della partita allora dico questo Scesni fondamentalmente non ha procurato nessun danno ma se tu vai a vedere gli interventi che ha provato li ha sbagliati tutti cioè ha messo due palle in calcio d'angolo che gridano ancora vendetta quelle palle che ha alzato come se fosse la Madonna di Lourdes che guardava al cielo e quelli sono errori che già un preparatore dei portieri te li segnala ti fa notare a fine partita guarda Scesni questi due interventi qui ok non hai preso gol ma non sono da portiere di Serie A due smanacciate in angolo con tiri da a due all'ora tra l'altro un passaggio di chiesa involontare nell'alleggerimento che tu devi bloccarlo cioè anche se la palla è sopra l'attraverso tu la devi bloccare quella palla lì e poi vabbè sul gol non è colpa sua l'errore della difesa l'errore di Alessandro malpiazzato Danilo malpiazzato insomma Bonucci non c'entra niente lì perché non l'ha toccata però la palla è andata a Mancuso e Scesni è uscito come se fosse uno spaventapasseri senza neanche provare a prenderlo cioè ha messo veramente il corpo e ha lasciato tutta la porta sguarnita ma vai su quelle cavolo di gambe quando esci poi prendi gol lo stesso ma vai sulle gambe cioè il giocatore non ha avuto neanche paura l'ha messa dentro proprio veramente di rapina ridendo perché ormai qualunque squadra anche la Salernitale in Venezia si fa una gol così secondo me e niente tornando ai giocatori che hanno giocato bene secondo me ieri allora De Ligt Bonucci ha fatto il suo vi posso dire Chiesa veramente sugli scudi come al solito dà tutto quello che ha Quadrado messo giù in maniera veramente vergognosa d'Allegri che secondo me non ha zaccato neanche i cambi Bernardeschi per quello che ha potuto fare entrando dopo lo metto nei sufficienti e direi Kuluseschi Kuluseschi forse ha fatto benino e basta gli altri tutti veramente sotto la sufficienza ma gravi insufficienze poi tornando al discorso dei giocatori fuori l'uolo abbiamo messo un Danilo a centro campo quando potevamo mettere qualcun altro potevamo mettere fagioli ma prova qualche giovane Ranocchia secondo me non faceva peggio di Danilo perché è impossibile far peggio di un giocatore fuori l'uolo che non ha l'atletismo non ha la forza di giocare più di un tempo un giovanotto ti gioca anche 70 minuti poi pecca di esperienza può fare qualche errore ma va a recuperare la palla se sbaglia corre indietro e la prende Danilo non ce la può fare in una fascia di campo che non è sua e tende a giocare sempre spostato non ha l'idea di stare in centro a centro campo quindi i buchi che creavamo erano paurosi e poi McKennie trequartista dietro le punte anche questo è proprio veramente ragazzi cioè siamo arrivati a livelli assurdi assurdi ok che sono pagati quindi devi giustificare lo stipendio che prendono sono dei senior e sono sopra le gerarchie rispetto ai giovani ma prova prova cioè dallo per bocciato fai in modo che tutti i tifosi vedono che il McKennie non ha fatto niente nel primo tempo mettilo giù quindi risulta che un giocatore è nullo lo cambi perché non fa niente non è in grado di fare un baffo e neanche uno spifero di brivido all'Empoli quindi almeno hai la giustificazione che paura hai Allegri di mettere un giovane con un dato di fatto di un giocatore che non sa giocare a calcio e sta giocando male ma al che vada ti diranno perché hai messo Ranocchia se hai messo Fagioli e sono giovani non sanno ancora stare a quei livelli lì hai messo Dragosin che poverino ha giocato due partite da titolare anche in Champions in campionato e non può tenere la pressione di queste partite io ho riprovato sinceramente quindi vabbè io non faccio testo però voglio arrabbiarmi in questo senso far capire alla società cosa c'è da fare o cacci fuori certa gente oppure cominci a far giocare i giovani punto non c'è 50-50 oh oh non esiste più la via di mezzo e quindi questo è un po' il discorso che volevo fare siamo alla frutta e Elk deve fare qualcosa deve venire veramente alla continassa urlare davanti a tutti e fare delle scelte drastiche mandare via giocatori che non vengono più niente e dirigenti incapaci fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi lasciate un bel pollicione iscrivetevi al canale e attivate la campanella un bacio a presto ciao ragazzi